Grazie a tutti. Io credo che sarebbe stato difficile nell'ambito del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia non pensare allo strettissimo legame, allo strettissimo impreccio culturale tra parlo e carattere questa grande occasione e voglio ringraziare la linea Dugiaro perché mi ha presentato per prima l'ipotesi di questa mostra che ritengo. Anche dall'altro lato. Diciamo come viveva Casa Savoia. Grazie a tutti. Grazie.